guarda 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 sempre fermo amici di Tic e Toc dai siamo in diretta live mi raccomando dai questa sera obiettivo vogliamo tantissimi like ragazzi ci siamo comprati attrezzatura nuova per fare la diretta addirittura abbiamo il microfono siamo microfonati siamo abbiamo lo stabilizzatore guardate che immagini guardate che riprese che sto facendo degno del migliore foto videomaker ragazzi qua veramente eh altro che dà il collaio alla pista qua eh guardate che robetta che che qua un videomaker number one dai ragazzi su 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 live 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 su Tic e Toc andiamo andiamo a vedere questa bellissima Fiat 500D in tutte le sue particolarità ragazzi guardate guardate posso farvi vedere gli interni girando semplicemente lo stabilizzatore guardate interni sono stati finemente rimontati salutiamo tutti gli amici che sono in diretta ragazzi eh dai ragazzi su di like andiamo di like in questa diretta ore 18 qualche minuto e si chiude ma siamo ancora operativi per voi ragazzi qualche minuto ancora 70 in diretta ragazzi andiamo andiamo con i like per questa diretta diretta live guardate vi piacciono questi interni ragazzi dai scrivetelo nei commenti se vi piacciono questi interni vai 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 grazie carissimo Gio grazie Gio ciao Roberto ciao Vincenzo ciao Fabrizio grazie Fabrizio dai andiamo a salutare ragazzi scrivete nei commenti da dove ci state scrivendo dai ci state vedendo e io vi vado a salutare ciao Rosario guardate ragazzi che immagini che riesco a fare con lo stabilizzatore ciao Giorgi Hoss la number one salutiamo Giorgi guarda Giorgi che bellissima diretta con lo stabilizzatore e con il microfono questa è classe eh vai 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 di like ragazzi andiamo di like riempiamo questa fantastica diretta di like riempiamo lo schermo del telefono Stefano che cosa devo fare i follower devono like ragazzi dai andiamo di like mentre siamo in diretta ragazzi stiamo assaporando della buonissima pizza rossa la stiamo solamente assaggiando presa dai due rotti cioè dalle ricambista cioè veramente da quello che vendi i ricambi ci ha dato la pizza cioè di solito la pizza si prende al forno non si prende dal negozio di ricambi ragazzi volete la pizza calda? ecco in diretta per voi ragazzi stiamo scaldando la pizza con come fa al mercato no visto certi si è portata la macchinetta mettono così bene ragazzi dai andiamo di like dai guardate che diretta una diretta stiamo mangiando tra amici ragazzi è come se stiamo insieme nella stessa tavola eh stiamo bacchettando insieme eh ragazzi dai scrivete sotto nei commenti da dove ci state seguendo eh andiamo a salutare diciamo la vostra città il vostro paese la vostra nazione ragazzi io nel frattempo vi faccio fare un bel giro per farvi vedere che bellissimo lavoro stiamo facendo eh vi piace? ragazzi siamo a 500 like ed eh dai dobbiamo fare un po' di meglio eh eh dovrei mettere tanti like ragazzi dai io vi sto postando a spasso all'interno dell'officina ma in cambio voglio tanti like eh ragazzi vi ricordo il nostro sito internet www.affarisburonati.com nel frattempo che io sto degustando questa pizza rossa gentilmente offerta dal nostro ricambista non sappiamo di che anno sia però diciamo al sapore della pizza giusto? dovrebbe essere della giornata odierna dovrebbe io mangio pure il pane che tocca alle canine e tu anche non mangi la pizza ah no beh io mangio la canine passo tutto all'opinia quello che vuoi non te vuoi dai ragazzi mandate dei dei premi io qua rose fiori mandateci leoni mandateci tigre mandateci la pizza siamo di Roma amico mio siamo di Roma puoi trovarci sul nostro bellissimo sito internet www.affarisburonati.com ragazzi bravo andai trovati i pezzi l'esilio antico che manco funzionava no hai fatto in copia e in colla bravo questo è ancora buono per quando ritrovami i pezzi grazie Antonino ragazzi fate come Antonino che ci ha inviato dei premi non so che cosa ma noi lo ringraziamo sì ma ma è vero sono arrivati non so dieci diamanti cioè che ci fai a questi diamanti gli so soldi eh sì certo e non ce li vede e te pensi che qua si gioca che stai beffando di me che sta prendendo gioco ma da mani a farci no no ringraziamo Antonino ragazzi allora facciamo così una rosa per per tutti gli amici che ci mandano gli omaggi noi gli daremo i nostri gadget che che sono i nostri gadget vanno a spiegare noi che abbiamo come gadget e che magliette ragazzi dillo quelle della fiat 500 cioè sono belle Antonino se l'è guadagnata Antoni in privato mi mandi il tuo indirizzo la tua mail il tuo telefono e io domani ti spedisco con DHL una bellissima t-shirt eh senti che robetta fate come Antonino ragazzi è anche la taglia Antonino ovviamente fate come Antonino volete vincere i nostri gadget ragazzi scrivete nei commenti e mandateci qualche premio noi ci accontentiamo di poco per esempio il nostro Antonino ci ha mandato adesso anche un elfo prendi non so che cosa sia è Natale ecco mi piace sto elfo ragazzi mi piace mi è sotto Natale un albero Natale un elfo ragazzi sono riuscito a terminare l'ultimo pezzo di pizza ne è rimasta un po' per chi la vuole dai ragazzi venite finiti la prima andata via poi chiudiamo ringraziamo i nostri follower prende l'amico che ci dice i prezzi per il restauro della 500 innanzitutto mi mandi per Whatsapp le foto della tua 500 e andiamo a capire giusto Stefano di cosa si tratta perché ogni persona ha sé la vuoi la vuoi diciamo una cosa che ogni macchina ha sé ogni macchina ha la sua storia dillo insieme a me ogni macchina ha la sua storia la macchina è come una persona ragazzi ogni macchina ha sé giustamente adesso l'amico mi dice dove ti trovo vabbè se abbiamo il sito internet ragazzi www.farisbulonati.com ma adesso io vi renderò la vita ancora più facile perché non sembra ma a volte anch'io sono intelligente a volte non sempre e allora ho deciso di ho deciso di farvi vedere di darvi i nostri recapiti ragazzi ringraziamo il maggiorino pazzo che ci ha inviato la rosa ragazzi ma guardate che vi faccio vedere ecco i nostri recapiti sono entrato in ufficio ho preso un bellissimo bigliettino ecco il mio numero io sono Fabio ragazzi potete chiamarmi sempre quando volete mandatemi le foto delle vostre auto io vi farò un preventivo personalizzato questa è la nostra mail questo è il nostro sito internet ci trovate ovviamente su facebook instagram youtube e tiktok ragazzi fate un bel screen come direbbero quelli bravi ragazzi ringraziamo antonino il maggiorino pazzo che ci avete inviato ci avete inviato degli omaggi grazie ragazzi per altri amici che vogliono partecipare ci vogliono inviare omaggi noi li accettiamo volentieri che saranno premiati con i nostri gadget i nostri fantastici gadget ragazzi andiamo a vederli i nostri gadget dai andiamo a vederli ve li faccio vedere ragazzi guardate guardate che spettacolo le nostre magliette le nostre magliette che a Bologna la fiera di Bologna hanno fatto hanno fatto impazzire tutti ragazzi guardate che belle guardate che belle ragazzi le nostre magliette i nostri cappellini i nostri gadget ve li vado a inviare a tutti coloro che faranno che ci invieranno i regali ragazzi io vi andrò a spedire con molto piacere i nostri gadget eh in privato ci mandate nome cognome mail indirizzo e la taglia e io domani ve li spedisco ragazzi ragazzi siamo a 2600 like in poco più di 10 minuti fantastico siete fantastici siete unici ragazzi grazie Antonio dopo vedo e domani mattina provvedo immediatamente a spedirti il tuo gadget perché te lo sei meritato caro Antonio ma come te anche il maggiorino pazzo e anche gli altri amici che dopo andrò a vedere ci hanno donato i regali grazie ragazzi ma ti seguo molto volentieri Antonino ti andrò a seguire grazie Antonino spero che vi piaccia anche la nostra nuova il nostro nuovo format di diretta perché adesso ci siamo attrezzati sia di microfono che sia di bassone stabilizzato quindi è una diretta veramente 2.0 una diretta veramente all'insegna della tecnologia all'insegna della perfezione una diretta sempre mirata a darvi il meglio ragazzi perché noi il meglio non lo diamo solo sulle vetture ma lo diamo anche sulle dirette ragazzi eh perché voi siete tutto per noi giusto ste pulizie di Pasqua no di Natale pulizie di serata ragazzi sono le ore 18.10 e dobbiamo chiudere dobbiamo andare a casa si è fatta una certa noi restauriamo Antonino tutte le auto storiche attualmente abbiamo tantissime 500 perché è un brand che amiamo che sta andando alla grande ma noi siamo specializzati in auto storiche a 360 gradi giusto? giusto andiamo andiamo a vedere questi interni come sono finemente restaurati e finemente rimontati dai nostri ragazzi guardate che bello il contachilometri tra di ragazzi eh della D come Domodossola andiamo a vedere anche la meccanica scusate ragazzi mal di stagione grazie Antonino dai ragazzi in basso a destra andiamo con i saluti nei commenti scriveteci da dove ci state seguendo e andiamo a salutarvi nell'ultimi due tre minuti di diretta e poi si va a chiudere ragazzi si va a chiudere ringraziandovi sempre a tutti per essere stati collegati e connessi con noi ragazzi guardate che bella questa Francis Lombardi ragazzi i ragazzi stanno impazzendo si vede che è l'ora di andare a casa vai vai chiudi chiudi che si va in chiusura dai in diretta spengiamo in diretta con gli amici dai beh ragazzi dai grazie a tutti siete stati tantissimi anche questa sera salutiamo tutti i nostri follower salutiamo tutti i nostri amici tutti i nostri i nostri benefattori dai chiamiamoli così benefattori sì 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 che ci hanno regalato tanti premi Antonino c'è tutto comunque se vuoi qualche info più dettagliata mi iscrivi direttamente alla mia mail info chiocciola info chiocciola affarisbururati.com com c'è tutto sul sito internet ragazzi c'è tutto è un sito internet 2.0 totalmente rinnovato sempre aggiornato ragazzi bene ragazzi le luci della giornata si stanno chiudendo da affari sfrugonati io vi ringrazio vi auguro la splendida serata ragazzi grazie a tutti anche questa sera siete stati fantastici ragazzi guardate il nostro ufficio si va in chiusura con le immagini del nostro fantastico unico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti